Ciao Inocchi, sono Truce Baldazzi, malatto mentale. Voglio dirti che io sui social non ci sono più perché mi hanno anche dato il profilo. Ma io sto continuando ancora a far rap. Ma tu sei un grande Inocchi, io ti stimo tanto. Sai che con me non ci sono problemi comunque, oltre alla pazzia che ho io. Comunque la condizione di questi dissing, la lucchè, guarda, io non lo so. Comunque l'importante è che è stata una cosa ironica, penso. Io sono bravo, le pare. Adesso fa le rime, riesco ad andare a tempo. Anni fa era, anni fa comunque. Io sono ingenuo, molto sensibile e non ho esperienza con voi. Proprio non siete adatti a me. Non siete adatti a me, purtroppo. Mi dispiace. Truce Baldazzi, Valle Inocchi.